Musica Eccoci qua, eccoci qui in diretta, sabato notte, dinner and dance del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di questo gruppo numerosissimo di Uomini e Donne, targato Zogno Bergamo! Allora la classe di Zogno, adesso gli chiediamo l'anno, il portavoce una fanciulla. Prima ha fatto l'uomo, adesso facciamo una fanciulla. Ragazze vicino al microbole, il tuo nome? Norma Ok, Norma, che cosa festeggiate voi ragazzi di Zogno? I nostri primi 40 anni 40 anni, quindi voi siete la classe, 1900? Viva 74! Vi siete divertiti qui al convento a fare la cena di classe? È la prima volta che venite? Buono, l'anno prossimo vi aspetto, è che mi ricorda le vostre facce. Ok, bravo. Lui è già venuto qua. Io? Sì, però avevi i capelli violi. Non sono un'abitudine. Per me, per me, qua è un posto un po' che porti le amiche... È un'abitudine. Hai la fede, poi allora non posso andare oltre. No, no, è la prima volta. Perché se no la moglie a casa metti... E qua, no? No, no, dormi, dormi. Ah, dorme. Eh, dorme. Forse, forse dorme. Già che metti, è l'unica volta dell'anno che il marito esce e secondo te dorme. Eh, oh, te sei qua, fa niente. Massimo, non c'è problema, Massimo... Ma le che vanno trovi l'antrametta calda. Bravo, bravo. Non è un problema. Allora, che canzone volete cantare? Ti lascerò. Ti lascerò. Ok. Fate il coro di Viso Uomini e Donne, eh? Sì. Buono. Sono già pronto, sono già pronto io. Vai, ti lascerò. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere i sogni che si fanno, perché dovrai sfruttare i sogni che si fanno. Quando si vive intensamente la tua altra, ti lascerò provare, ma di vincere i tuoi giorni con i colori accesi e i tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi anni. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi anni. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi anni. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi anni. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi anni. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi occhi, tutta una vita da guardare. E lascerò ai tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi occhi, tutta una vita da guardare, ma di vincere i tuoi occhi, tutta una vita da guardare. E io tolgovi! Fermi lì, fermi lì. Prima c'era un'altra classe come voi del 74, loro non in tanti e io ero da solo. Come piace fare solamente a me? Facciamo una sfida tra me e voi. Se rispondete in maniera corretta alle mie domande, io vi dirò come vedere il video a casa, altrimenti dovete scoprirlo da sole e da soli. Pronti? Allora, potete consultarvi, l'unico che risponde per tutti, una risposta unica, è lui che si chiama? Marcello. Queste sono le domande per voi. È come un gioco, come una partita di calcio. Se vincete voi andate 1-0, se vinco io 1-0. 1-1, 2-1 e si arriva a quando lo dico io. Pronti? Ti piace? Ah, via. Prima domanda. A quest'ora poi mi piace un face. Matematica. In una stalla ci sono 10 buche. Scappano tutte tranne 9. Quante buche rimangono nella stalla? 9. Esatto, 1-0 per voi. Tutte tranne 9. Ne rimangono 9. Vedi, c'è il tranello, c'è il tranello. Vedi, a quest'ora, a quest'ora. Allora, altra domanda. Questo qua è l'argomento di Capitan Schettino. Ok, quindi il mare, le barche. Cosa ci fa un gallo in mezzo al mare? Galleggia. Esatto, 2-0 per voi. Andiamo un po' sul complicato, perché vedo che siete in gamba voi. Quelli di prima li hanno sbagliati tutti. Voi vi mette in domenica tutte e vi tocca dirvi come vedere il video. Pronti? Terza domanda per voi. Questa mi piace. Cosa ci fa un nano dal fotografo? Un nano dal fotografo? Chiama Giovinco che ti dice lui quello che ci fa dal fotografo. Vi do un aiuto. Aspetta qualcosa. No. Aspetta qualcosa. È già tanto, eh? Il mio aiuto. Guardiamo, guardiamo. Andate sul 2-1, eh? Positivo. Proviamo, proviamo. La rete di grande evento. No. Aspetta lo sviluppo! 2-1. Ora quella decisiva. Scherzo, è finita. Erano tre domande. Avete vinto voi? Avevate già vinto, perché eravate 2-1. Adesso alla fine del video vi spiego come vederlo. E continuate l'applauso. Classe D'Ogno 1974! 74! 74! Grazie a tutti.